rosalinda cannavò una delle ex concorrenti della quinta edizione del grande fratello vip nelle scorse ore ha ricevuto delle critiche sui social dopo aver fatto sapere di aver sofferto di amenorrea in passato dopo aver dato il suo buongiorno a coloro che la seguono sui social rosalinda cannavò si è lasciata andare a un nuovo sfogo per le offese che si è trovata a leggere riguardo a un problema di salute di cui ha parlato per iniziare la fidanzata di andrea zenga ha rotto il silenzio specificando per quale motivo nelle scorse ore non è stata tanto attiva su instagram ieri sono stata assente ho pubblicato solo una storia semplicemente perché era l'ultimo giorno che passavo con la mia famiglia a questo punto l'ex concorrente del gf vip 5 non ha nascosto il suo dispiacere per le critiche ricevute dopo aver affrontato un argomento molto importante ho parlato della amenorrea l'ho avuta per ben sette anni per chi non lo sapesse è l'assenza del ciclo mestruale ho parlato della mia volontà di congelare i miei ovuli che non lo sapesse è l'assistente Grazie a tutti.